I server sequestrati e il segnale spento per un milione e mezzo di utenti che vedevano illegalmente i programmi di Sky, Mediaset, Netflix e Dazon attraverso internet. Tutti abbonati non ufficiali ai canali televisivi e alle piattaforme online, adesso oscurati dalla polizia postale delle comunicazioni. L'organizzazione criminale smantellata dalla procura di Catania aveva la sua centrale tecnologica più strutturata a Messina, da cui veniva gestito l'80% del flusso illegale dell'EPTV in Italia. 45 persone in 18 province sono indagate dalla procura di Catania per associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, froda informatica e riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell'ingegno. Un giro d'affari da 15 milioni di euro al mese, senza contare il mancato introito per i fornitori dei servizi televisivi a pagamento. Ogni utente pagava solo 10 euro al mese per vedere le partite, i film e i programmi. Il sistema partiva dall'acquisto legale dei segnali digitali da parte dei vertici dell'organizzazione, le cosiddette sorgenti, poi attraverso una complessa infrastruttura tecnica ed organizzativa venivano trasformati in dati informatici e convogliati in flussi audio-video, da qui la trasmissione ad una rete capillare di rivenditori ed utenti finali. Per vedere i contenuti e gli abbonati illegali bastava avere a casa la connessione ad internet ed il cosiddetto pezzotto, un decoder per ricevere il segnale in streaming. È dallo scorso anno che gli specialisti informatici della Polizia Postale monitoravano in rete le offerte sempre crescenti di questi pacchetti di IPTV. La troppa pubblicità sui canali social ha portato a ricostruire la filiera di queste vendite apparentemente legali. Proprio nel 2020 nel nostro paese, con il lockdown e più tempo passato online e davanti alla TV, i reati informatici sono aumentati del 33% e gli attacchi cibernetici di rette e infrastrutture critiche sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, ha detto la ministra dell'Interno, la morga dell'Interno, la morgese. Reati commessi da criminali che navigano in rete, ma la responsabilità riguarda anche gli utenti finali. Chi compra illegalmente contenuti digitali mette in crisi un intero sistema produttivo. Solo nel 2019 i mancati incassi per l'industria audiovisiva italiana a causa della pirateria si aggirano sui 600 milioni di euro con migliaia di posti di lavoro a rischio.